Buon pomeriggio, funziona? Sì, io sono davvero molto contenta, anche un po' emozionata perché il libro l'ho letto quest'estate e ne parlavamo prima, mi è rimasto molto impresso e mi ha fatto fare molte riflessioni anche sullo stato della situazione delle donne nel nostro paese, ancora che il libro sia focalizzato sull'esperienza statunitense degli ultimi due anni dopo la vittoria di Trump alle elezioni, però offre moltissimi spunti su cui si può riflettere anche da quest'altra parte dell'oceano. La dottoressa Ferrario la conoscete tutti, è un volto noto del giornalismo italiano e in questo libro fa spesso riferimento anche alla sua esperienza come inviata e alle sue esperienze appunto di differenze culturali nel mondo che però nella situazione femminile un po' si accomunano e anche di questo mi piacerebbe che lei ci parlasse. Inizierei con perché hai scritto questo libro e cosa è cambiato da quando ho iniziato a scriverlo perché alcune cose in questi 18 mesi di trampismo si sono modificate almeno negli Stati Uniti. E come? Intanto mi fa piacere vedere che c'è un pubblico miso di uomini e donne perché questo libro io non l'ho scritto per le donne e non è un libro solo sulle donne, quindi è un libro che ho scritto pensando proprio che potesse essere utile per riflettere anche nel nostro paese su che cosa si potrebbe fare per migliorare complessivamente la società italiana e l'ho fatto mentre ero in America e mentre raccontavo la campagna elettorale per la Casa Bianca perché io raccontavo la parte ufficiale nei telegiornali ma vedevo davanti a me scorrere pezzi di storia che stava nascendo perché man mano che questo scontro tra Trump e la prima candidata donna alla Casa Bianca continuava e diventava sempre più forte, sempre violento e vedevo anche crescere una serie di voci delle donne, donne inaspettate, donne che spesso anche voi conoscete perché sono donne famose e poi c'erano anche delle donne meno famose che all'improvviso hanno sentito un po' a rischio quello che avevano dato per scontato sino a quel momento, tutta una serie di diritti che nessuno pensava potessero essere messi in discussione e quindi ho incominciato ad ascoltare, a leggere quello che scrivevano sui giornali, quello che dicevano e ho detto ma io queste cose le devo raccontare anche agli italiani perché accanto a queste prese di posizione incominciavano a esserci anche delle azioni concrete, le donne che incominciavano a fare politica, ci sono sempre state le donne che fanno politica ma dopo la sconfitta della Clinton la delusione è stata così forte che tantissime donne, migliaia di donne in questo momento in America hanno deciso di provarci anche loro nei loro comuni, nelle loro città, nei loro stati sino al congresso, cioè vogliono provarci anche loro a contare di più perché hanno capito che se vogliono contare di più devono metterci la faccia in prima persona, cioè devono darsi da fare e quindi in America per esempio a novembre si vota per le elezioni di medio termine ed è interessante vedere, nel partito democratico sono in corso le primarie ed è interessante vedere quante donne democratiche in realtà stanno emergendo rispetto agli altri candidati democratici uomini, uomini che magari da anni stavano al congresso e non avevano mai avuto dei rivali e stiamo parlando di rivali in casa propria quindi le primarie sono nel partito democratico, poi ci sarà la sfida tra democratici e repubblicani a novembre, però la selezione di chi dovrà partecipare alla sfida in casa democratica oggi vede tantissime donne che stanno sconfiggendo uomini che erano lì da decenni al congresso che nessuno mai aveva messo in discussione. Peraltro su questo c'è anche una sorta di personalizzazione maschile e femminile fra elite e outsider all'interno delle primarie democratiche certo, stanno per esempio emergendo donne giovani che appartengono a delle minoranze ce n'è una in particolare a New York che ha colpito perché è una ragazza con una mamma di origine portoricana ma no Alexandra e quindi sentiremo parlare di lei molto perché vedrete perché sono figure di donne molto combattive che hanno delle idee e le sanno manifestare molto bene sanno farsi valere e quindi stanno probabilmente cambiando quello che è il panorama politico in America quindi Trump ha in qualche modo rivitalizzato anche tutto un panorama politico facendo entrare queste donne in grande maggioranza e naturalmente se questo sta accadendo in casa dei democratici è chiaro che anche i repubblicani si stanno organizzando perché oggi la carta della donna è una carta che vale cioè giocare la carta della candidata donna conta di più e questo perché sono successe tante cose dall'arrivo di Trump alla Casa Bianca avete visto è nato il movimento Me Too ma non solo c'è stata una presa di coscienza che sta cambiando probabilmente alcuni equilibri ma per rimanere su questo tema probabilmente la presa di coscienza è stata anche rispetto al fatto che poteva essere repentinamente perduto molto dello spazio guadagnato negli ultimi 40 anni 50 anni anche negli Stati Uniti però come tu stessa descrivi nel libro che veramente invito tutti a leggere che ha degli esempi molto anche concreti di cose accadute raccontando storie di donne diverse alcune molto famose, alcune molto importanti e altre più comuni, storie più ordinarie non sempre però anche negli Stati Uniti la categoria donne può essere presa come una categoria solidale a prescindere la segretaria di Stato Albright ne parlavamo appunto prima in un'intervista disse che c'è un posto speciale all'inferno per le donne che non aiutano le altre donne anche nel caso di Hillary Clinton non tutto il voto femminile che ci si aspettava ha sostenuto questa impresa che sarebbe stata forse... Sì, infatti il 53% delle donne bianche ha votato Trump esatto io anche chiedevo a queste donne ma non vi sentite offese dalle volgarità che dice Trump sulle donne vi ricordate che erano uscite anche quelle conversazioni registrate tra lui e un conduttore televisivo in cui lui diceva siccome sei ricco puoi fare quello che vuoi con le donne io faccio questo, quello ed entrava nei dettagli però quando io sono andata anche in giro a chiedere alle donne che si vedeva che erano dalla parte di Trump perché manifestavano in suo favore io chiedevo ma non vi sentite offese, perché vi piace Trump? e loro rispondevano perché non è un politico non è uno di quelli che stanno a Washington quindi c'era una presa di posizione contro la casta dei politici contro i parlamentari del congresso e poi è un uomo ricco che si è fatto da sé cosa che non è vera ma era l'immagine che dava di essere uno che non veniva dal mondo della politica ma veniva da... era un imprenditore, aveva un imperio immobiliare ma grazie anche diciamo ai soldi di famiglia e quindi appariva come l'outsider, l'uomo diverso, la novità che poteva fare la differenza per tutti quei milioni di americani appartenenti alla classe media bianca che ancora non si sono ripresi dalla dura crisi del 2008 quella dei mutui di subprime e che in America c'è stata la ripresa e c'è come ho visto i dati poco fa sono arrivati altri dati che danno la disoccupazione al 3,9% guardate è una cifra incredibile se pensate che nel 2008 quando c'è stato il crollo della Lehman Brothers era al 12% e con Obama lentamente sono stati ritrovati 13 milioni di posti di lavoro stanno continuando ad aumentare e Obama se n'è andato che era riuscito lui è stato eletto nel 2008 quindi ha preso un paese in ginocchio ed è riuscito a portare la disoccupazione al 4,9% quindi in 8 anni e oggi è al 3,9% quindi è veramente un momento per l'America forte di crescita eppure c'è tutta una classe bianca che non ha ritrovato i posti di lavoro che aveva prima che non ha più le stesse sicurezze di prima che ha dei lavori molto più precari e che ha visto anche i loro lavori finire cioè molti lavoratori dell'industria automobilistica non hanno più ritrovato i loro posti quindi sono lavori pagati in un modo diverso e non sono più così garantiti come lo erano prima ed è quella la classe diciamo sono stati loro gli elettori di Trump oltre a una parte dell'America conservatrice ma questa era soprattutto quell'America che votava Partito Democratico prima e che non si è più sentita garantita in quei diritti fondamentali ma in questo che possiamo ritrovare come energia anche ormai in Europa la difficoltà delle classi medie la crisi che ha toccato sicuramente quei lavoratori che erano specializzati specializzati 10-15 anni fa e la cui specializzazione non è più vendibile sul mercato del lavoro con l'avanzamento tecnologico e con i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi 15 anni è sicuramente la fotografia di quegli elettori che hanno deciso di cambiare passo negli Stati Uniti dare fiducia a un uomo che poteva dire di non provenire dall'establishment di Washington in questo mi sembra che tu dica che non ci sono differenze fra le donne elettrici e gli uomini elettrici invece perché come invece emerge anche nel libro ci dovrebbe essere una consapevolezza che mette anche al centro della questione il proprio essere soggetto femminile o maschile i diritti in quanto persona non solo esponente di una classe economica o di un certo ceto sociale che per esempio si è ritrovato in quegli Stati che hanno improvvisamente abbandonato il Partito Democratico negli Stati Uniti come quelli della Belta Industriale in Michigan, in Illinois quegli Stati che hanno determinato poi la vittoria di Trump dove appunto anche le donne hanno votato Trump nonostante avessero l'occasione diciamo forse l'unica occasione sicuramente la prima che c'è stata di una presidente donna e anche di una solidarietà di genere Allora, ieri prima parlavi della mancanza di solidarietà tra le donne è molto vero allora Hillary la prima candidata alla Casa Bianca è riuscita a non ricompattare le donne e quindi anzi ci sono stati dei momenti molto drammatici perché lei non solo aveva doveva affrontare gli attacchi di Trump ed erano durissimi ma aveva anche il fuoco amico in casa perché c'era il senatore Bernie Sanders ve lo ricordate quel senatore che riusciva a infiammare i giovani perché gli prometteva una scuola gratuita cosa che in America non c'è e quindi l'istruzione senza dover fare quei mutui gravosi che gli studenti universitari sono costretti ad affrontare e Bernie Sanders non si ritirava non si ritirava cioè Trump era rimasto da solo da subito perché col suo modo di fare era riuscito a far fuori 17 candidati repubblicani Hillary aveva tre candidati erano per i democratici c'erano tre candidati uno era Bernie Sanders un altro neanche mi ricordo come si chiama perché era finto e poi c'era Hillary e Bernie Sanders non si ritirava si è ritirato solo proprio a pochi giorni dalla convention democratica quando ha capito che ormai il partito aveva comunque scelto Hillary e che quindi lui non aveva alcuna chance ha invitato l'ha sostenuta a questo punto e ha invitato il suo elettorato a sostenerla ma molti di quei ragazzi che si infiammavano per Bernie Sanders non sono andati a votare tra di loro anche tante donne una tanto per dirvi che conoscete una famosa attrice Susan Sarandon ha scritto una lettera ai giornali in cui diceva io non voto con la vagina Hillary non mi piace mi antipatica è legata ai gruppi di potere finanziari e così e quindi ha votato una candidata verde un voto inutile e oggi comunque ha il suo voto cioè è servito anche a leggere Trump quindi diciamo che Hillary non ha avuto la solidarietà sicuramente delle donne ed ha avuto una strada molto in salita perché comunque cioè non è che solo in America per le donne che scelgono di fare politica sia facile cioè le donne che fanno politica sono il primo bersaglio degli attacchi sono quelle più attaccate con frasi d'odio l'avete visto anche in Italia no? una donna che fa politica sa deve mettere nel conto che comunque sarà attaccata per il suo aspetto non piace il fatto che abbia delle sue idee sia così indipendente e quindi diventa spesso ormai nell'era dei social è così facile poi nascondersi dietro uno pseudonimo un finto account una cosa del genere e le donne che fanno politica sono a tutti i livelli destra sinistra cioè sono comunque oggetto di attacchi e non solo di attacchi per le loro idee politiche ma anche per il loro aspetto io mi ricordo su Hillary Clinton si sono dette delle cose terribili ma non solo quando è stata candidata alla Casa Bianca ma anche quando era segretario di Stato e le rughe non le rughe come si è vestita i capelli lunghi i capelli corti e lei mi ricordo che una volta lei stava sfidando Obama nelle primarie appunto perché ci aveva già provato con Obama la povera Hillary ad andare alla Casa Bianca e aveva vinto Obama all'interno del Partito Democratico e ricordo che lei una volta in un'intervista disse ma io mi devo alzare almeno due ore prima per potermi presentare ai comizi perché lui si mette sempre lo stesso vestito si alza fa una doccia ed è già pronto io devo avere i capelli a posto devo essere truccata devo cambiarmi il vestito comunque ho bisogno di avere tutta una preparazione perché so che comunque sarò giudicata anche per come sono pettinata per come sono truccata per il colore della giacca e lui ha due ore di tempo in più per aggiornarsi per guardare i giornali per informarsi e questo si potrebbe dire anche nel mondo del lavoro ma dappertutto non c'è dubbio io adesso stavo facendo un esempio perché parlavamo di politica e di quello che è stata questo risveglio delle donne durante la campagna elettorale americana ma il tema riguarda perfettamente tante professioni la strada delle donne è sicuramente una strada in salita e cioè quindi partiamo una in pianura e l'altra in salita e poi dovremmo arrivare tutte e due insieme allo stesso punto è complicato è complicato una strada in salita e con meno tempo a disposizione e con tante cose da fare dunque la strada ci sono anche dei tornanti non è mica proprio tutta assolutamente sì e per diciamo è interessante lo hai citato adesso come possiamo poi portare questa esperienza anche diciamo a casa nostra nel rapporto fra donne e potere prima parlavi degli attacchi subiti dalla Clinton noi abbiamo avuto per esempio la presidente della camera della scorsa legislatura che è stata a bersaglio di furia sui social network è stata una tra le donne più minacciate e colpite con messaggi di odio qual è la specificità di genere in questi attacchi così virulenti che sicuramente diciamo sono amplificati dai nuovi media ma che poi hanno riguardato anche parecchia stampa almeno in Italia ma una cosa io credo abbia fatto importante rispetto a questo odio che corre in rete che abbia fatto la Boldrini ed è stata proprio quella di convocare tutti i responsabili di queste aziende dell'iTech da Facebook a Google a tutti quelli che gestiscono i social media per metterli davanti alle loro responsabilità e devo dire che non è stato semplice perché io l'ho incontrata nel libro c'è anche un'intervista proprio su come lei ha vissuto queste minacce e quello che ha cercato di fare in Italia per in qualche modo contenere questi queste persone che dietro a finti account cercano di diffondere odio e non è stato semplice mettere questi responsabili di siti davanti alle loro responsabilità perché non è che ci sia una legge nel nostro paese così cioè va fatta va fatta e va noi per esempio rispetto alla Germania abbiamo delle limitazioni diverse in Germania per esempio Facebook mi raccontava ha una struttura molto più grande perché la legge tedesca impone il controllo di quello che passa sul network di Facebook e da noi tutto questo non c'è una legge che li che li obbliga a cercare di togliere i messaggi di odio appena arrivano a cercare c'è un lavoro che si sta facendo però io credo che sia importante come obiettivo di arrivare a considerare queste aziende allo stesso livello delle aziende editoriali noi nei giornali o nelle televisioni non è che possiamo fare quello che ci pare e attaccare chi vogliamo senza avere un controllo sulla diffamazione su tutto questo non coinvolge queste aziende scusate e quindi vale la pena di lavorare perché cioè si arrivi a non avere più account finti persone che non stanno con il loro nome e cognome in rete che possono permettersi di diffondere notizie false o messaggi di odio quindi è un lavoro serio che va fatto che va fatto con i ragazzi perché imparino ad usare bene la rete i social media ed ha fatto proprio perché tutti noi si sia più tutelati questo ci porta anche alla questione anche questa ne abbiamo parlato prima ed è presente nel tuo libro attraverso le storie di molte donne che è la responsabilità sociale che i media hanno anche quelli tradizionali anche quelli editoriali nel incorniciare in qualche modo in inglese si direbbe framing del fenotipo femminile che deve avere certe caratteristiche che poi mal si attaglia con il potere o con alcune professioni mi piacerebbe poi parlare tu la citi nel libro della Lovelace anche per il lavoro che io faccio ma che peraltro in questo territorio è molto presente di come le nuove tecnologie non siano degli studi che non vengono proposti facilmente alle donne e che questo poi rischierà nel tempo anche di determinare un gap ancora maggiore di adesso rispetto ai salari rispetto alle professioni ma prima di questo essendo che appunto tu comunque primariamente per noi tutti sei un'importante giornalista italiana quindi il mondo dei media è il tuo mondo e rispetto alla consapevolezza di genere all'importanza della partecipazione femminile nelle istituzioni nella politica e nelle professioni la stampa e il mondo della comunicazione può fare molto e può fare anche molto a sfavore però io credo che la stampa abbia un ruolo importantissimo perché io racconto come la stampa per esempio abbia dato spazio alle donne in America in America se c'è un problema c'è anche un manuale per risolverlo e quindi c'è una soluzione a tutto c'è un corso che si fa per risolvere per imparare a fare una cosa quindi c'è un approccio sempre molto pratico alle cose e nel caso delle donne per esempio io nel libro racconto tutta una serie di corsi che vengono fatti per esempio sulle bambine perché le bambine possano crescere sicure come i genitori siano consapevoli di questo e i papà siano convinti che debbano dedicare del tempo alle loro figlie perché un papà che dà sicurezza alla propria figlia e le dice sì tu lo puoi fare vai io ti sostengo ha un valore doppio rispetto alla mamma perché la mamma è molto importante è un modello infatti nelle tante donne famose che ci sono nel libro parlano di quanto le loro mamme siano state importanti nell'aiutarle a scegliere un percorso e soprattutto nel non rinunciare alle loro passioni ma anche i papà hanno un grosso peso e servono per le bambine perché da subito bisogna cominciare a far capire alle ragazze che serve scegliere dei percorsi dove le donne non ci sono e che sono stati per tanti anni settori in mano solo esclusivamente agli uomini e in questo la stampa ha un ruolo importantissimo perché deve far vedere dei modelli e serve rappresentare delle donne che sono arrivate a occupare posizioni importanti bisogna dare loro voce perché quelli diventano dei modelli se io vedo una scienziata che mi parla di una grande conquista dello spazio penso che anch'io posso diventare una scienziata e posso fare l'astronauta e posso andare nello spazio se vedo sempre solo un uomo in quel ruolo magari non ci penso e penso che una donna non sia portata a fare quello e quindi noi per esempio come giornaliste stiamo facendo tanto perché anche nelle redazioni si faccia uno sforzo per dare voce alle economiste appunto a tutte quelle donne che lavorano nell'ambito scientifico perché ormai ci sono ma soprattutto perché nell'ambito scientifico ci sono i lavori e sono anche i lavori più retribuiti è evidente che se le donne non arrivano a quei lavori che sono quelli che il mercato chiede e poi alla fine si ritrovano spesso disoccupate e magari anche non gratificate quindi la stampa ha un ruolo enorme nel far ma non solo la stampa ma io adesso sono stata in questi giorni alla mostra del cinema ma pensate anche all'importanza che hanno i contenuti dei film la scelta delle protagoniste la scelta di raccontare alcune storie di successo l'anno scorso vi ricordate quella storia incredibile su quelle tre donne di colore che lavoravano alla NASA e che quando ancora i computer non c'erano no? e quindi non mi ricordo il titolo in italiano ma in inglese era Hidden Figures no? cioè non quindi quindi ecco quelle sono storie che fanno sognare e che nelle quali ci si può identificare quindi e quindi è evidente che tutto il mondo della comunicazione i giornali chi pensa a fare le fiction chi pensa ai contenuti dei film e beh ha un grosso ha una grossa responsabilità non a caso la Disney non fa più le principesse che stanno aspettando il principe azzurro perché in America questo percorso sta già avvenendo da tempo e quindi sono tutte principesse molto indaffarate a salvare i loro popoli e se per caso si presenta un principe azzurro dice scusa adesso c'ho da fare aspetta un attimo che risolvo tutti questi problemi che devo liberare il mio popolo devo combattere contro quello là che mi vuole prendere il regno eccetera poi dopo magari ne parliamo no? e quindi c'è comunque un cambio di passo nei contenuti certo è un lavoro lungo che va fatto e secondo me anche da noi va fatto perché insomma io vedo ogni tanto una pubblicità spesso delle pubblicità in onda che insomma mi fanno un po' riflettere ricordo durante l'inverno a un certo punto c'era un prodotto farmaceutico oltanto un qualche cosa c'è la mamma c'è la mamma che si ammala e il papà e i bambini di casa sono disperati perché la mamma non può più fare tutto quello che faceva prima e tocca farlo al papà e ai figli e quindi si vedono questi sono sempre quei 30 secondi ma 30 secondi veramente che sono un pugno nello stomaco non so se l'avete visto ma si riesce a trovare anche su youtube e la mamma intanto sta a letto con la febbre e poi prende questo tantum qualche cosa e all'improvviso guarisce e tutti sono contenti perché la mamma si vede che torna in cucina e comincia a lavare a fare a pulire a cucinare eccetera ecco allora io dico nel 2018 può esserci ancora una pubblicità così che trasmette un'immagine comunque di un marito che si dispera se la moglie ha la febbre non è in grado di cucinare lui e comunque non lo fa normalmente e lei non vede l'ora di stare meglio perché così può tornare a lavare i piatti direi di no però se proviamo a fare quindi è un problema non solo del giornalismo ma è un problema di tutti quelli che si occupano di comunicazione e di modelli ma è un problema anche dentro le famiglie perché è chiaro che tutto parte anche da quando si è piccoli dentro le famiglie dai libri che si scelgono da regalare alle bambine dai corsi a cui le si scrive ma l'avete mai scritto una bambina a calcetto difficile che ci siano delle bambine che giocano a calcetto eppure lì io ho capito io l'ho capito che si incomincia a imparare a fare squadra perché i maschi incominciano a fare squadra perché giocano a calcetto io ditemi se mi sbaglio ma quell'idea lì che poi la squadra sin da piccoli poi vai nel posto di lavoro e fai squadra e poi fai la cordata e poi comunque ti tieni l'uno con l'altro le donne mai che siano solidali che si tengano l'uno con l'altra mica si deve essere tutte amiche ma magari c'è un obiettivo da raggiungere e quindi si fa questo gli uomini l'hanno capito da tanto tempo le donne meno e quindi sono più deboli per quello però negli Stati Uniti c'è un bellissimo pezzo del libro non solo hanno vinto anche la coppa del mondo in cui il tema molto importante della differenza sareale delle mancate pari opportunità anche diciamo nonostante la stessa professione viene esemplificato dalla squadra di calcio statunitense ma vi ricordate che c'è stato anche un ministro che aveva consigliato ai ragazzi di giocare a calcetto è inutile che pensate al curriculum questo era un ministro nostro però mi pare che fosse nostro in che senso l'italiano sì nostro certo un ministro del lavoro di qualche anno fa di pochi anni fa sì Poletti era forse era Poletti sì è meglio giocare a calcetto che non pensare al curriculum lo diceva agli uomini e alle donne credo no lo diceva agli uomini non ci pensava minimamente che le donne potessero giocare a calcetto no proprio le donne proprio le donne non erano nei suoi pensieri però magari si imparavano a fare squadra è certo e quindi diceva giocata a calcetto che lì si fanno le conoscenze giuste si creano le alleanze giuste comunque lì io ho raccontato parlando perché nel libro si affronta molto il tema della disparità salariale che è un problema serio perché guardate cioè uno pensa che non ci sia in realtà c'è c'è dappertutto l'unico paese al mondo che l'ha imposta per legge è l'Islanda mettendo quest'anno è avvenuto mettendo addirittura delle sanzioni nelle aziende dove non si rispetta la parità salariale e anche in Italia io metto nel libro dei dati che sono sbagliati perché io ho preso i dati ufficiali sulla disparità salariale tra uomini e donne in realtà poi mi hanno spiegato mi ha spiegato una collega dell'Istat che è molto più alta dei dati che troverete nel libro in Italia perché l'Istat prende in esame solo quei lavori diciamo quelli garantiti non tutta quella parte del precariato dove le donne sono molto sono molto presenti per cui sembra che guadagnino di più in realtà guadagnano credo che ci sia addirittura tipo il 15 il 16% di disparità salariale tra uomini e giovani poi in Italia c'è anche grande il problema della non occupazione femminile oltre che della disparità salariale forse uno dei paesi dell'Unione Europea dove è più basso il tasso di occupazione femminile questo diciamo anche rispetto al valore che le famiglie possono inoculare nei figli nell'educazione ha un peso perché mamma lavora mamma non lavora cambia le cifre le cifre sono il 49 4% di donne lavora contro il 62% che è la media europea quindi rispetto al noi siamo un po' il fanalino di coda dell'Europa e su questo tema cioè è un tema importante perché è legato anche alla nostra crescita economica perché se ci sono poche donne al lavoro anche il paese cresce di meno anche il benessere delle famiglie più basso e quindi cioè bisogna creare delle condizioni perché diventi conveniente prendere donne al lavoro creare incentivi perché sia conveniente per le donne tornare a lavorare dopo aver fatto un figlio perché la nostra legge di maternità dà una grande tutela alle donne ma è anche una fregatura lo so che è un tabù e non si può toccare però è anche una fregatura perché consentire di stare lontani dal lavoro così tanto rischia di penalizzare le donne in un'epoca come questa dove i cambiamenti sono così veloci e dove eh più alta la voce vicino al microfono non si sente ah e quindi dicevo e dove è necessario mantenere un aggiornamento costante quindi ci sono è una legge che è stata fatta anni fa quando non c'erano tutti quegli strumenti che oggi ci sono di maggiore flessibilità per poter lavorare sempre su base volontaria per carità ma ieri a un dibattito mi faceva notare una docente universitaria che se tu sei in maternità e stai facendo un dottorato sei costretta a interrompere il dottorato e lei dice ma io potrei tranquillamente lavorare da casa perché facendo il dottorato ho bisogno di mandare avanti le mie ricerche quindi lo posso fare tranquillamente organizzandomi nel mio tempo libero cioè nel tempo che decido io quando posso andare avanti con la mia ricerca e invece sono costretta a interromperlo perché non c'è flessibilità quindi ci sono tutta una serie di penalizzazioni che sulle quali la politica le donne che fanno politica che sono state mandate al Parlamento proprio per cercare di risolvere anche dei problemi delle donne dovrebbero affrontare affrontare in modo anche trasversale ma infatti tu prima hai detto una cosa interessante degli Stati Uniti e della tua esperienza negli Stati Uniti negli Stati Uniti c'è un manuale per ogni cosa una to do list che ci insegna come cavarcela nelle situazioni difficili e diciamo la situazione delle donne in Italia è difficile adesso abbiamo detto alcuni dati ma penso che poi sia nell'esperienza personale di ciascuno visto tutto quello che hai imparato le esperienze che hai descritto così bene nel libro che quindi avrai conosciuto donne molto importanti con cui ti sei confrontata e parlato quale potrebbe essere la cassetta degli attrezzi per le donne italiane e anche per cercare di capire come costruire una piattaforma nuova anche qui di contrasto alla situazione attuale ma anche in una versione diversa da quella che abbiamo conosciuto nella generazione delle nostre mamme negli anni 70 il mondo è cambiato e forse anche le pari opportunità e la presenza femminile nelle istituzioni nell'imprenditoria nell'economia può avere un ruolo diverso e può essere richiesta con forza ma anche con strumenti diversi da quelli di prima ma io credo che le donne italiane non siano consapevoli di quanto lavoro ci sia ancora da fare per arrivare a delle opportunità veramente uguali per tutti ma non perché si debba togliere a qualcuno per dare agli altri ma perché veramente siamo in una condizione di non consapevolezza le donne non si sentono più pensate a cosa sono stati questi mesi per esempio abbiamo avuto due mesi di consultazioni in cui si vedevano queste delegazioni che andavano su e giù col Quirinale in attesa di fare un governo le donne non c'erano c'erano nella delegazione un po' di Forza Italia e c'era la Meloni che arrivava con i suoi due uomini ce n'è uno bello alto due bersaglieri ed lei è l'unica che si è fatta il suo partito dopodiché le donne sono sparite non si vedevano e appunto abbiamo il 34% di presenza in questo Parlamento perché la legge ha imposto la presenza delle donne anche nelle liste quindi c'è stato un aumento delle donne però la loro voce non si sente un po' forse perché non hanno il coraggio di far sentire la loro voce e devono sottostare a delle organizzazioni dei partiti per cui solo alcuni possono parlare altri no e quindi le donne però insomma bisogna secondo me che le donne si diano una bella svegliata perché non gli arriverà dall'alto questa parità che comunque anche le Nazioni Unite auspicano l'Italia ha firmato un documento all'ONU che prevede il raggiungimento auspica il raggiungimento della parità nel 2030 allora se andiamo avanti così diciamo che non siamo messi proprio bene e anche perché stiamo facendo dei passi all'indietro siamo passati dalla cinquantesima posizione all'ottantaduesima nel rapporto sulla parità nel mondo fatto dal World Economic Forum quindi quei signori che si riuniscono a Davos che diciamo qualcuno chiamerebbe i poteri forti e che stanno là e che decidono diciamo anche di questioni economiche e finanziarie ci dicono che non stiamo messi bene ecco allora io credo che le donne debbano incominciare a mobilitarsi ma perché questo può portare solo dei miglioramenti a tutti anche agli uomini io credo che a un uomo possa far piacere avere accanto una moglie che guadagna che porta a casa comunque uno stipendio che ha una carriera davanti e garantisce non tutte le responsabilità sulle spalle esclusivamente di una persona in famiglia quindi per ottenere questo però bisogna uscire da questo torpore c'è una sorta di torpore e anche di rassegnazione che non va bene ma secondo te questo torpore da cosa è determinato uno lo vede questo torpore voi non vedete un po' di torpore un grande silenzio perché non vorrei cioè io nel libro non è che metto i miei pensieri io sono una giornalista ho sempre fatto politica estera non ho mai seguito le questioni delle donne quindi a un certo punto ho deciso che lo scrivevo il libro perché come vi ho detto prima vedevo queste cose che accadevano però e quindi mi sono messa a raccontarlo con un taglio giornalistico come io in genere lavoro e quindi vado in giro guardo metto dei dati ascolto le persone cioè non è che devo dimostrare nessuna tesi perché non è che io infatti la cosa interessante è proprio che troverete appunto dei dati che sostengono tutto questo che sono lì a dimostrazione quello che sostengono è anche quello che è successo negli Stati Uniti è che il grande cambiamento anche inaspettato la disfatta della Clinton la vittoria di un outsider nessuno se lo aspettava ha scosso allora quindi c'è un modo per uscire dal torpore mentre invece diciamo sembrerebbe beh intanto prenderne coscienza cioè allora io invece mi accorgo spesso che appunto sono le donne spesso a non esserne consapevoli o addirittura attaccano le altre donne proprio perché non sono consapevoli della loro situazione e quindi mi ritrovo a sentire delle politiche che dicono io sono contro le quote perché le trovo offensive e io rispondo scusa ma quando c'è una situazione di squilibrio bisogna portare l'equilibrio una volta che si ritrova l'equilibrio si può ripartire tutti insieme cioè oppure persone che mi ha colpito lo scandalo che ha coinvolto Weinstein no? io seguivo ovviamente sendo uno scandalo americano che veniva da Hollywood io leggevo i giornali americani è partito da lì perché è partito proprio da due denunce sul New Yorker e sul New York Times quindi leggevo come questo scandalo veniva vissuto in America e poi vedevo come veniva raccontato in Italia e come veniva raccontato in Italia quindi in America i giornali sono stati al fianco delle donne non solo cioè hanno fatto un lavoro d'inchiesta molto serio a sostegno di quello che dicevano le donne perché non è che pubblicano tutto quello che sentono e poi dicono poi lo verificheremo no c'è stato un lavoro serio d'inchiesta quando sono uscite le accuse a Weinstein e nessuno ha potuto dire ah no non è vero infatti Weinstein è sotto processo e da lì poi insomma sono successe tutta una serie di altre cose tra cui la nascita del movimento Me Too in Italia siccome c'era un'attrice italiana coinvolta in modo molto provinciale tutto lo scandalo è stato raccontato così come un fatto di curiosità e le donne a un certo punto la voce delle donne lì sì che si è sentita che attaccava le altre donne dicendo eh ma si può sempre dire di no eh ma aspetti tutto questo tempo a denunciare io allora mi sono veramente cioè non avevo nessuna tesi mia da sostenere ma ho detto ma guardate in Italia a che livello è il dibattito con gli uomini zitti e e dico ma perché in America a nessuno gli viene in mente di dire queste cose ma tutti parlano della necessità che i posti di lavoro siano posti sicuri dove non ci siano molestatori dove non ci siano ricatti dove i sogni delle donne e le passioni delle ragazze non possano essere fermati da una richiesta di ricatto sessuale e gli uomini anche prendono posizione perché non sono tutti dei molestatori e quindi alcuni sui giornali a loro volta hanno preso posizione dico ma perché nel mio paese tutto viene vissuto come un fumetto è un fatto di colore su un'attrice e sulle donne che dicono si può anche dire di no ma non è mica una gara tra chi è più virtuosa cioè il problema è toglietemi i molestatori dai posti di potere perché sono in posizioni di potere no cioè non è che qui il problema è stato vissuto più su perché Asi Argento ha fatto quello che ha fatto ma non solo ma perché appunto no c'era anche ma perché hanno denunciato dopo così tanto tempo cioè non è questo il problema è proprio perdere di vista qual è il problema e allora che cosa c'è stato di sbagliato anche che la stampa non ha affrontato il problema in modo molto serio cosa che invece ha fatto la stampa americana e quindi la gente lì ha capito che si stava parlando di un problema serio e non solo la stampa americana poi non è che si è fermata a Hollywood solo perché appunto si parlava di personaggi famosi la stampa americana poi ha cominciato a indagare anche in altri mondi meno lucicanti è andata a vedere cosa succedeva per esempio nel mondo della ristorazione nel mondo dell'agricoltura nel mondo degli ospedali cioè dove ci sono anche lì ricatti sessuali e magari anche per lavori meno retribuiti e ambiziosi come fare la protagonista di un bel film hollywoodiano quindi c'è stato un atteggiamento completamente diverso e vedi che si ritorna alla responsabilità dei media nella consapevolezza o meno nella forza della consapevolezza del proprio ruolo che le donne non debbano interrogarsi su perché attaccano le altre donne e su questo però ci sarebbe bisogno di alcune suggestioni e anche alcune se vuoi raccomandazioni perché è di ieri Asia Argento alla fine della parabola non farà neanche più il giudice di X Factor quindi diciamo il cerchio si è chiuso che Asia non è la figura più adatta per sostenere una battaglia che però non ha dietro solo Asia cioè è piena di altre donne però era una delle donne si per noi non in America non in America per noi ci è sembrato che fosse la paladina del Me Too perché appunto in modo provinciale siccome c'è dentro un'attrice italiana abbiamo pensato che tutto il Me Too fosse no non è così certo la vicenda di Asia lascia molti interrogativi aperti perché non è ancora chiarita perché adesso c'è anche tutta una presa di posizione dell'avvocato di Asia che ha tirato fuori altri documenti in cui viene fuori che questo ragazzo che sostiene a 17 anni di essere stato violentato da Asia in realtà da tempo lei cercava di aiutarlo perché era in difficoltà economiche e aveva anche una causa aperta con la sua famiglia che lui aveva accusato di avergli tolto i soldi che lui aveva guadagnato quando faceva l'attore ed era minorenne quindi è un tema che va molto allora la realtà io quello che vedo è che c'è una gran voglia di chiudere col Me Too e di riportare tutto come se fosse stato un bel incubo in modo che le donne ritornino dove stavano e c'è una gran voglia di dire avete visto che in realtà queste non sono persone serie ma non è così perché comunque c'è un percorso è stato fatto però non credi che se una persona popolare ricca, famosa come l'argento nel momento in cui si mette adatta o meno a denunciare delle cose diciamo si deve affrontare quello che ha affrontato e che sta affrontando che messaggio dà questo a una ragazza più giovane meno popolare meno strutturata meno famosa meno bella meno ricca diventa un problema perché il fatto di sentirsi più o meno sì ma non può vanificare l'impegno di tante donne nella richiesta di dignità e di rispetto nei posti di lavoro cioè questo non può fermarsi al problema di Asia Argento perché significa non capire la portata comunque di quello che della richiesta di cambiamento che le donne fanno e quindi bisogna in qualche modo andare avanti nel cercare di lavorare sul futuro cioè non ci si può fermare al caso di Asia Argento perché altrimenti vanifica davvero l'impegno di tante altre donne serie che hanno avuto il coraggio di dire quello che non andava e se non si fa così in Italia se il movimento Me Too in Italia non ha avuto assolutamente spazio perché in Italia c'è paura a denunciare perché non ci sono dei meccanismi di tutela perché spesso poi paghi con la vendetta di qualcuno che non ti fa più lavorare io nel libro anche racconto una storia insomma la troverete cioè quindi c'è anche il timore invece le aziende hanno delle responsabilità enormi nel garantire che non ci siano spazi per i molestatori nel garantire che le donne possano essere tutelate quindi c'è una responsabilità io non vorrei che siccome Sergento adesso viene accusata di aver fatto sesso con un ragazzo di 17 anni che non è proprio un bambino ma è in piena tempesta ormonale e quindi per carità per la legge americana ma non per quella del Montana era un minorenne se fosse accaduto in Montana non sarebbe stato neanche una violenza sessuale ecco allora non vorrei che tutto questo fosse ridotto al problema di Asia Argento perché ci sono dei problemi ben più seri che dovrebbero essere affrontati nel nostro paese e che appunto sono solo all'inizio della riflessione ma c'è una gran voglia di rimandare tutto indietro pensate che in America siccome lo scandalo Me Too ha mandato a casa tanta gente conduttori televisivi famosi appunto produttori anche nel mondo della finanza amministratori delegati che nella Silicon Valley di fondi di investimento che nella Silicon Valley chiedevano soldi ricatti sessuali non soldi chiedevano ricatti sessuali per finanziare start up di giovani imprenditrici quindi la la ribellione a tutto questo ha fatto sì che molti uomini perdessero il lavoro lavori tutti molto importanti e di potere allora cos'è successo? che a distanza di pochi mesi per esempio un conduttore televisivo che aveva perso il suo lavoro io lo vedevo in onda sia nei programmi della notte della sera sia in quelli delle mattino non so dormiva in redazione probabilmente faceva notte e mattina all'alba e quindi uno molto ambizioso sempre presente in video Charlie Rosen è anche molto stimato in America accusato di molestie sessuali dalle sue collaboratrici ha perso la CBS lo ha licenziato lui dopo neanche tre mesi dice ho deciso di fare un programma in cui intervisto tutti gli uomini che hanno perso il lavoro a causa del Me Too del movimento contro le molestie sessuali c'è stato un sollevamento di scudi da parte di tutta una grossa fetta dell'America dicendo ma sono solo tre mesi e già stai cercando la rivincita è meglio che tu stia zitto nel tuo angolo e continui un attimo a stare lì e non dai sapendo ecco quindi c'è stata anche in questo caso proprio perché c'è una voglia di ritornare di ritornare e punire chi ha creato questa situazione c'è stata però anche una reazione per cui Charlie Rose è ancora lì il suo programma non lo fa e per il momento tutti quelli che lui e tu pensi che in Italia sarebbe accaduto che ci sarebbe stato lo stigma in Italia non c'è stato neanche il movimento Me Too stavamo dicendo appunto che per le donne non c'è neanche il coraggio di dire le cose che non vanno e quindi insomma c'è un bel lavoro da fare ecco abbiamo i tempi un po' contingentati però ci teniamo sempre a far fare delle domande dal pubblico quindi se ci sono delle domande avete questi 5 minuti di Tiziana 6 minuti e mezzo di Tiziana a disposizione ci sono i ragazzi del festival con i microfoni se c'è qualcuno che alza la mano se no faccio un'altra domanda io ma penso che di spunti sul piatto tantissimi anche tante donne che magari possono testimoniare o meno la necessità o la voglia o il desiderio di ritornare a pensare anche in termini di politiche di genere in Italia si c'è una signora qui può andare è lì allora nel giornalismo italiano ci sono donne si può mettere il microfono vicino se no poi non la sentono gli altri nel giornalismo italiano ci sono donne validissime allora chiedo se non fosse possibile che queste giornaliste così brave così capaci fossero in grado di veramente stimolare anche il popolo femminile soprattutto le ragazze giovani a rendersi conto con naturalmente servizi giornalistici servizi di coso di rendersi conto quanto importante possa essere la donna e quanto possa avere forza anche nel combattere certe situazioni guardi lei ha perfettamente ragione e le posso però raccontare di alcuni sforzi quotidiani che tante giornaliste fanno spesso senza risultati perché intanto non è che basta essere giornaliste per poter mandare in onda quello che passa per la testa esistono delle gerarchie nelle redazioni bisogna convincere i direttori e non a caso dico direttori perché sono quasi tutti uomini e se lei guarda i quotidiani nazionali anche la carta stampata sto dicendo non c'è una donna in un quotidiano nazionale e in televisione ce ne sono e quello che si riesce a fare si fa non ci si stanca di per esempio prendere anche posizione sul modo in cui si raccontano i delitti delle donne i femminicidi perché anche quello è importante cioè non è un tema sul quale le giornaliste non si confrontano si confrontano e come l'anno scorso il 25 di novembre per esempio è stato fatto è stato sottoscritto da centinaia di giornalisti uomini e donne nel manifesto di Venezia l'abbiamo presentato proprio a Venezia in cui c'era una sorta di impegno morale da parte dei giornalisti a raccontare i femminicidi nel modo giusto a non usare le parole sbagliate a non minimizzare quello che sta accadendo nel nostro paese c'è una donna uccisa ogni tre giorni come un troppo amore o troppa gelosia o uno scatto d'ira quindi non raccontare dei dettagli sulle vittime ma cercare di andare a capire che cosa ha molto di più anche degli assassini quindi insomma c'è una consapevolezza che bisogna fare tanto abbiamo partecipato a dei portali dove ci sono le cento esperte si chiama ci sono tutti i nomi delle donne esperte di scienza tutte le donne esperte di economia proprio perché i giornalisti non siano pigri e cerchino anche di dare voce alle donne donne con qualifiche con competenze quindi cioè il lavoro è lento faticoso estenuante perché appunto poi cioè serve portarsi dietro anche chi comanda nelle redazioni le chiedo di passare il microfono perché abbiamo veramente solo altri tre minuti e diamo l'occasione tra l'altro appunto almeno per pari opportunità una donna un uomo perfetto no soprattutto una domanda abbastanza seria soprattutto su un su un argomento tabù che diciamo ne parlo molto con i miei amici soprattutto molto seriamente si parlava appunto dell'argomento mito delle molestie sulle donne però quando avviene avviene anche il contrario in questo caso come se ne può parlare soprattutto nel giornalismo quando succede magari il contrario ma lei conosce tanti uomini molestati da donne che occupano posti di potere no però no perché cioè perché il contrario sarebbe questo donne che occupano posti di potere che molestano gli uomini sottoposti lei ne conosce tanti no però io no allora l'ha detto no no però conosco degli amici che magari sono hanno hanno come si dice hanno subito mariti di abusi con un mio amico è stato stalkerato appunto da una sua ex però c'è una differenza sostanziale fra la molestia e la molestia ai fini del posto di lavoro di cui io parlo io è quella che un superiore impone per ragioni di potere a una sottoposta e sì certo però in genere il ricatto sessuale rispetto a una promozione rispetto all'ingresso in una professione rispetto a un esame che uno deve sostenere certo cioè quindi sono non si può confondere poi certo che c'è un problema di stalker si denuncia esiste anche una legge io credo che la denuncia nel momento in cui un uomo si sente molestato e perseguitato da una donna cioè non considerando che ci sono solo il 10% di donne imposti di vertice nelle aziende italiane credo che saremmo tutti contenti quando potremmo parlare di donne io credo che le aziende abbiano una responsabilità di tenere i loro posti sicuri come mettono le spine a norma devono metterli sicuri dai molestatori cioè non ci devono essere spine da cui si prende la scossa non ci devono essere molestatori che danno fastidio alle donne e se succede agli uomini la legge vale lo stesso cioè se c'è una regola nelle aziende vale per tutti cioè non è che le donne sono libere di molestare vorrei incontrarle però io queste donne che molestano pronto? eccoci Tiziano Ferrario ritorniamo ritorniamo alla politica americana tu sei un voto del Tg1 e quindi ti guardo volentieri ti guardo volentieri ma dico questo mi vede molto poco ormai beh sì forse può darsi non lo so vuol dire che anche lei non guarda più il Tg1 no Tg1 ecco proprio così Tg1 guardo molto meno visto questo modo di comunicare di fare informazione della RAI forse cambierà qualcosa al più presto ma la domanda che ti volevo fare dov'è che ha sbagliato Hillary Clinton che in America e anche in Italia sono tutti addirittura a un funerale hanno fatto dove ha sbagliato? hanno fatto un funerale quando ha perso Hillary Clinton? comunque lei era legata all'establishment ovviamente ha sfruttato anche il marito che ne ha combinati con le donne sappiamo tutto dove ha sbagliato Hillary Clinton che lei credo sia andata in depressione ma guardi l'ho vista di recente in un'intervista si è ripresa certo che è andata in depressione perché è andata a passeggiare per boschi per almeno tre mesi perché lei quella sera del voto cioè era convinta di essere presidente di essere diventata presidente ma non solo lei cioè i sondaggi la davano in testa e secondo me lo stesso Trump non si aspettava di diventare presidente l'ha scoperto quella sera anzi ieri proprio mi sono vista questo film dove c'è l'intervista a Steve Bannon American Dharma che uscirà anche nelle sale era la mostra del cinema e Bannon che è stato l'artefice dell'ascesa di Trump alla Casa Bianca proprio racconta che lui non si era neanche preparato il discorso perché non lo ha fatto un po' anche per scaramanzia ma un po' perché non aveva nessuna sicurezza di vincere e comunque Hillary ha vinto il voto popolare con i tre milioni in più rispetto a Trump ma Trump ha vinto comunque più stati lei ha sbagliato intanto perché Trump ha rappresentato la novità come dicevo prima e aveva un linguaggio molto diretto ed è andato a toccare proprio quelli che erano i problemi dell'elettorato di quelle le preoccupazioni della gente il lavoro la paura dell'immigrazione e vi riporto il lavoro in America c'è tutta una serie di temi che abbiamo anche noi e che sono quelli che lui ha intercettato molto bene con un linguaggio molto semplice Hillary Clinton era sulla scena politica da vent'anni non è mai stata molto amata e il fatto di essere una donna c'entra c'è stata una componente di misoginia molto forte nei confronti della Clinton e quando io sono andata a chiedere spesso in giro ma perché non vi piace la Clinton sembra incredibile ma ancora non gli è e anche lei non l'ha perdonata di essere rimasta accanto al marito per la storia della Lewinsky perché anche lei ha detto perché gli è convenuto quindi anche lei non ha perdonato a Hillary di essere rimasta accanto al marito dopo lo scandalo Lewinsky e questa sembra incredibile cioè comunque non le viene riconosciuto di dopo essere stata first lady comunque di avere scelto di fare politica e di essere stata senatrice quindi di avere insomma tirato la carretta come senatrice poi dopo che ha fatto ci ha provato ad andare alla Casa Bianca non ce l'ha fatta ha accettato l'offerta di Obama di fare il segretario di Stato quindi ha lavorato con il suo avversario è vero dello stesso partito ma comunque anche lì significa scegliere comunque di scendere dal piedistallo della politica e accettare comunque di stare al fianco di Obama e lo ha fatto nonostante abbia scalato da sola tutti i suoi gradini di senatrice di segretario di Stato attaccata eccetera e poi di nuovo candidata cioè non viene vista come un opportunista e a partire da quel gesto di essere rimasta accanto al marito e quelle sono dinamiche anche familiari sono dinamiche di coppie quante donne rimangono accanto al marito che le tradisce tante sono scelte che uno fa a Hillary non è stata perdonata e poi non le viene perdonata un'altra cosa poi finiamo perché lo so che c'è il tempo che suona lì che è scaduto non le viene perdonata cosa che per quando lei ha deciso di candidarsi alla Casa Bianca hanno detto è ambiziosa di un uomo non si direbbe mai cioè sarebbe dopo aver fatto la senatrice il segretario di stato la first lady cioè sarebbe normale ambire anche a dire ma sai che c'è voglio anche fare il presidente faccio da vent'anni politica voglio anche fare il presidente per un uomo sarebbe un percorso naturale lei ambiziosa e questo è un po' cioè Hillary lo ha patito per il suo livello eccetera ma è un po' quello che accade a tutte le donne a tutti i livelli grazie è bello aver concluso con l'ambizione delle donne e lasciamo il palco al prossimo libro grazie